Pericle Cima, Alberto Giuliani, Carlo Grassi, Francesco Orsini, Angelo Sant'Ambrogio, Antonio Vitali, Ernesto Venegoni. I lavoratori della Franco Tosi di Legnano e le rappresentanze sindacali unitarie hanno celebrato questa mattina il 67esimo anniversario della deportazione dei 7 operai che persero la vita nel campo di concentramento di Mauthausen. Era il 5 gennaio 1944 quando, durante lo sciopero generale, le SS fecero eruzione nella fabbrica. Poco prima di mezzogiorno un gruppo di militari nazisti sparò a raffica sui lavoratori riuniti nel piazzale davanti al cancello. Tutti i sindacalisti che stavano trattando con la dirigenza vennero arrestati e non fecero più ritorno a casa. Oggi il sindaco di Legnano, Lorenzo Vitali, ha ricordato i nomi di coloro che hanno compiuto una scelta di coerenza e coraggio, fino a diventare per la città di Legnano uno dei simboli più grandi di quella libertà che era stata loro negata e per la quale hanno vissuto fino al sacrificio. Il significato a cui noi teniamo molto è quello di far conoscere soprattutto le nuove generazioni, quello che è successo qui in Francotosi nel 1944, ma non solo le nuove generazioni, anche una generazione come la mia che magari potrebbe anche dimenticarsi. L'importanza storica è molto alta perché in quei periodi ci sono stati anche parecchi scioperi, sono partiti in Toscana ma si sono spostati un po' in tutta l'Italia settentrionale e si può dire che quello che sono stati quegli scioperi dei lavoratori, la resistenza dei lavoratori, è stata quella che poi si è trasformata in una lotta partigiana che ha portato poi alla liberazione dell'Italia. Un legame a doppio filo con la storia tenuto vivo anche dalla presenza dello scrittore Nedo Fiano che nel campo di sterminio di Auschwitz disse addio a tutta la sua famiglia. Questi incontri hanno un'importanza fondamentale per rafforzare il nostro collegamento con la storia. La storia non è qualcosa che viene come la luce del sole, la storia la facciamo noi. Conoscere la storia vuol dire conoscere gli errori, i successi, le difficoltà, vuol dire prepararsi all'incontro col tempo che passa, non passivamente. Noi vogliamo, io penso, noi vogliamo avere una funzione nella storia, una funzione attiva e non passiva. Qual è il ricordo che le viene in mente più di frequente? I fornicrematori di Auschwitz dove hanno bruciato mia madre, mio padre, mio fratello, la moglie, un bambino di un anno e mezzo dove hanno bruciato mia nonna, i miei zii, la nostra famiglia era di 11 persone, sono tornato soltanto io. Dalla sua esperienza e da quella degli operai della Franco Tosi di Legnano, il sindacato riprende il lavoro di contrasto al pericoloso processo di rimozione della memoria che culminerà con il viaggio del treno per Auschwitz promosso da CGL e CIS della Lombardia in partenza il prossimo 26 gennaio dal binario 21 della stazione centrale di Milano.